Conferenza stampa di presentazione della 28esima edizione del Presepe Vivente di Faggiano, un evento organizzato dall'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano, appunto con il patrocinio del Comune di Faggiano, un evento che vede ovviamente la partecipazione della parrocchia Maria Santissima Assunta di Faggiano e ovviamente c'è il gemellaggio, chiamiamolo così, con la città di Betlemme. Un momento importante, un Presepe Vivente che ritorna dopo appunto lo stop imposto lo scorso anno dal Covid. Ne parliamo con il dottor Angelo Zanzanella che è appunto il presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano. Sì, il 25, il giorno di Natale, prende in via la 28esima edizione del Presepe Vivente di Faggiano. Ripartiamo dopo un anno di fermo dovuto, obbligatoci insomma dalla causa pandemia Covid-19, ripartiamo naturalmente in sicurezza. Il Presepe Vivente sarà fatto nel rispetto dei protocolli Covid, pertanto chi verrà a visitare il Presepe dovrà esibire obbligatoriamente Green Pass e all'interno dell'area presepiale, sebbene sia un luogo aperto, sarà consentita la visita con l'utilizzo della mascherina. Ecco, approfittiamo per dire le giornate in cui sarà possibile appunto visitare il Presepe Vivente. Sì, la visita vera e propria comincia il 25, l'inaugurazione avrà fatta la notte di Natale, il 24, dove subito dopo la Santa Messa, verso le 22 e 30 circa, il nuovo parroco Don Francesco Santoro farà una forma di peregrinazio col bambinello fino all'area presepiale dove ci sarà un momento di preghiera. Dopodiché si parte ufficialmente con l'apertura del Presepe ai visitatori il 25, poi il 26 e 29 dicembre per andare poi nel nuovo anno l'1, il 2, il 4 e il 6 gennaio, dove si concluderà con la rappresentazione della Calata dei Maggi. Il giorno importante per l'associazione ma per l'intera comunità sarà il 4 perché dopo diversi anni tornerà a farci visita l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, invitato dal nostro parroco Don Francesco Santoro che ha accettato l'invito a tornare al Presepe Viventi di Faggiano. In quell'occasione, proprio per ricominciare dopo un anno di fermo, abbiamo voluto organizzare una riunione di sindaci o loro delegati di quelle città con le quali il comune di Faggiano ha stretto dei patti di amicizia. Il comune di Matera, il comune di Tricase, il comune di Oria, il comune di Cassano all'Oioneo e il comune di Pietralcina. Il giorno 4 ci ritroveremo qui a Faggiano dove insieme andremo un pochettino a ristipulare questi patti in questo interscambio culturale dove la base è sempre i nostri presepi viventi. Io mi invito tutti quanti a tornare a Faggiano e a tornare a visitare il nostro presepi vivente che, come dicevo prima, verrà fatto con tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid. Don Francesco Santoro, parroco di Maria Santissima Assunta di Faggiano e parroco si è insediato da settembre, un evento che esprime una profonda religiosità. Non è solo un fatto, diciamo, di valorizzazione delle tradizioni popolari, quello certamente importante come marketing del territorio, ma c'è una intrinseca religiosità. Salve, una cosa stupenda innanzitutto riprendere, dopo il problema della pandemia che comunque è ancora in atto, riprendere il presepe vivente che come segno di speranza all'interno di questa terra andrà a ridare forza, a ridare luce a tante persone che vivono questo momento di tenebre e di buio. Come veniva sottolineato, ecco, non una semplice esperienza di marketing o di tradizioni popolari, non è il carnevale di Faggiano questo, non è semplice folclore ma è prima di tutto un'esperienza di fede. Il presepe nasce per intenzione di San Francesco d'Assisi, tanti secoli fa, come esperienza di fede. Lo ha ripetuto anche Papa Francesco con la lettera Admirabile Signum, che è stata appunto consegnata a Greccio, a tutto il mondo cristiano, ma direi a tutto il mondo perché il presepe, il Natale unisce tutte le persone, ecco, ci ricorda l'importanza di questo momento dove, ecco, il mistero, la bellezza si fa carne all'interno della creatività del genio umano. Noi entriamo in contatto con Cristo, la cosa bella del Natale è che il Natale tutti unisce. Cristo unisce credenti e non credenti perché in questo momento si incontrano tante persone, non solo persone che frequentano la Chiesa, persone che credono, ma tutte le persone attorno a Cristo. E vorrei sottolineare l'importanza e la centralità di Cristo nel presepe perché quest'anno ricorre anche un anniversario importante di Gianni Rodari. Lui diceva, lui scriveva una poesia molto importante, brava gente, in cui sottolineava la superficialità che spesso si vive, dove la gente è abituata a mangiare la buccia e a buttare il frutto. Se noi al Natale, credenti o non, togliamo Cristo, che cosa rimane del Natale? Noi lo festeggiamo proprio perché ricordiamo la nascita di Gesù Cristo. Pietro Grassi, assessore alla cultura del comune di Faggiano. L'amministrazione comunale ha voluto supportare, come ormai è tradizione, questo presepe. Un momento certamente che esprime quel senso di religiosità, come già osservato con il parroco, ma è certamente un modo per promuovere il territorio, per fare marketing del territorio, per fare cultura, in una sola parola. Perché appunto le tradizioni sono cultura. Assolutamente sì. Noi abbiamo sposato con favore la richiesta dell'Associazione per le Tradizioni Popolari di riattivare e ripartire con il presepe dopo un anno di pausa per ovvie ragioni legate alla pandemia. Ringrazio l'Associazione per le Tradizioni Popolari per l'egregio lavoro che hanno svolto per garantire la sicurezza di tutti coloro che verranno in visita a Faggiano per entrare all'interno del presepe vivente. Faggiano ha questa caratteristica. A Faggiano si vive un Natale a metà se non c'è il presepe vivente. Quindi benvenga questa iniziativa, patrocinata fin dall'inizio, come ogni anno accade, da questa amministrazione comunale che abbraccia con favore la manifestazione. Altresì invita i cittadini a rispettare le normative anti-Covid al fine di garantire una manifestazione sicura come è sempre stata. Grazie a tutti.